eccoci nuovamente in studio dopo aver ascoltato appunto l'esperienza appunto la testimonianza di suo Rita Giaretta delle sue rassoline che ha scritto questo libro non più schiave casa Ruth il coraggio di una comunità ritorniamo a parlare appunto del fenomeno della prostituzione dell'assoluto sfruttamento della prostituzione ben rappresentato nel film appunto film breve come lo chiama lui Rosario Enrico ballerina e a questo punto è arrivato il momento di fare intervenire mi dicono che già in diretta con noi l'onorevole Mario Michelangeli che è assessore per la tutela dei ritti dei cittadini e questo è l'esatte definizione dell'assessorato vero onorevole? Buonasera la sento piano Mi sente? Mi sente? Adesso meglio? Sì adesso la sento meglio Perfetto Le dicevo lei è assessore alla tutela dei ritti dei cittadini della regione Lazio Sì La tutela dei consumatori e quindi noi l'abbiamo un po' interpretato in maniera estensiva come diritti dei cittadini Perciò però l'esatte dicitura è tutela dei consumatori? Sì bravo Perfetto Bene stiamo parlando appunto del film breve come lo definisce appunto Rosario Enrico Ballerina dove si parla della tratta delle ragazze appunto per quanto riguarda il fenomeno della prostituzione Perciò sfruttamento, favoreggiamento e tutto ciò che sono le attività delinquenziali appunto che girano, ruotano Orbitano intorno a questo fenomeno La situazione attualmente qual è? Perché noi poi come radio ci occupiamo da tanto tempo appunto del fenomeno stesso Abbiamo realizzato diversi servizi appunto con testimonianze Una volta per esempio io mi sono anche finto cliente e ho cercato di intervistare due prostitute Poi ho registrato esattamente il dialogo che c'è tra il cliente e la prostituta Sono venute fuori delle cose allarmanti veramente Come il fatto che l'offerta Nella maggior parte dei casi sia portata a queste ragazze Con richieste di rapporti non protetti per esempio E soprattutto che succede con le persone sposate Comunque lascio a lei la parola per quanto riguarda questa risposta Innanzitutto qual è la situazione attualmente nel Lazio Ecco perché naturalmente è limitata al suo campo, al suo territorio di competenza Guardi, intanto mi lasci salutare Rosario Enrico e gli artisti e gli ospiti che sono lì in studio Anche perché il nostro è stato un incontro casuale Quando lui mi ha parlato di questo progetto e di questo film breve Un vero e proprio film Tra l'altro molto bello da un punto di vista artistico E un cazzotto allo stomaco invece da un punto di vista dei contenuti Ha saputo centrare bene il problema Che è appunto quello della tratta di queste giovani ragazze Che vengono portate in Italia con altre motivazioni E poi vengono apriate alla prostituzione Ho ritenuto come assessorato alla tutela dei consumatori Di fare un'iniziativa forte su questo Infatti l'8 marzo abbiamo presentato il film E abbiamo fatto una bella iniziativa Ma non ci siamo fermati e non ci fermiamo lì Perché la mia intenzione è quella di sensibilizzare soprattutto i giovani Le loro famiglie Tant'è vero che abbiamo acquisito qualche migliaio di copie del film E lo distribuiremo all'inizio dell'anno scolastico in tutte le scuole superiori E in queste scuole superiori naturalmente avvieremo dei dibattiti Perché il punto è quello di sensibilizzare Ci sono molti ben pensanti che pensano che queste ragazze siano lì a farsi gli affari loro Ben pensanti che pensano male effettivamente Sì, non si rendono conto invece qual è il dramma che è dietro queste situazioni Che poi tra l'altro scopriamo tutti i giorni sui giornali E nel Lazio, soprattutto a Roma, ovviamente questa incidenza è molto elevata e molto forte Ognuno che passa sulle strade consolari di ingresso a Roma se ne può rendere conto E quindi ecco, come assessorato ai consumatori abbiamo voluto sponsorizzare questo film Che tratta bene il problema E credo che sia un film che ci aiuta a riflettere E forse a far conoscere una situazione che molti non conoscono e pensano tutt'altro Guardi, onorevole, io la devo ringraziare per la sensibilità che le sto notando In queste anche poche parole Grazie a te No, perché è la prima volta che mi trovo di fronte a una persona, rappresentante delle istituzioni Che affronta questo problema Perché, le ripeto, sono in dieci anni di trasmissione Sono almeno otto anni che ci occupiamo di questo fenomeno qui a Radio Roma E ringrazio a voi anche per il vostro attivo impegno No, ma le dico Perché su questo c'è bisogno di un impegno forte anche da parte delle istituzioni Poi noi abbiamo anche in mente qualche altra cosa con gli altri colleghi assessori In senso, per esempio, di bilanciare una iniziativa che già è nel Comune di Roma Che è quella delle casse protette Quindi per cercare di togliere queste ragazze dalle strade Certo, no, comunque le dicevo Effettivamente è la prima volta che sento veramente una persona che si occupa Perché io più volte, ripeto, mi sono occupato di queste cose Per esempio, lei faccio due esempi Proprio di scontro contro il muro di gomma Spesso delle istituzioni La pineta di Ostia Lei è presente chiaramente la pineta di Ostia Con il degrado Perché poi noi parliamo tanto di tratta delle donne Però c'è anche un discorso di sfruttamento delle istituzioni Anche dei transessuali sono in realtà molto più complessa E molto più di nicchia In qualche modo più difficile da penetrare effettivamente Comunque il discorso del degrado della pineta di Ostia Ci siamo occupati di questa cosa Intervennero per esempio l'orrevole Bontempo sul fenomeno L'orrevole Angelo Bonelli Che attualmente è capogruppo dei Verdi alla Camera Però il rappresentante istituzionale Forse più emblematico per il territorio appunto del tredicesimo municipio Che era all'epoca Davide Bordoni Che attualmente è consigliere comunale al Comune di Roma Per Forza Italia Addirittura non intervenne Perché non ritenne opportuno Necessario intervenire su questo argomento In un territorio dove Facciando completamente insomma No, i vigili urbani in un territorio di quel tipo Dove i vigili urbani non si vedono in pineta per tutta la settimana Però si vedono la domenica per fare multe alle famiglie Dove i bambini giocano a un metro o due metri Da rifiuti organici Da profilattici usati E fazzoletti usati Questo fu il nostro approccio con le istituzioni Però adesso le provoco anche un leggero dolore probabilmente Perché il settimo municipio racchiude la zona del mattatoio Lei conosce Il presidente del settimo municipio era L'onorevole Stefano Tozzi Sì Che penso sia del suo stesso Sì Partito Sì, del stesso partito All'epoca noi abbiamo intervistato sia L'onorevole Tozzi Che l'onorevole Caradonna Che era del quinto municipio Perché il mattatoio si trova a ridosso Addirittura il mattatoio La zona del mattatoio è l'attuale Dove fare una nuova portaportese praticamente Tanto per intenderci E noi il titolo era proprio Che al mattatoio la carne è debole Era questo proprio il titolo dell'articolo Che tra l'altro potrà trovare anche su www.dialimedia.it Il portale di informazione che dirico Online E praticamente le dico All'epoca era stato addirittura Dato che c'è un divieto Proprio nell'ambito della zona di via Adesso non mi soviene la via Però dove praticamente c'è questo commercio del sesso Da parte dei transessuali Soprattutto in quel caso La Parmina Togliatti credo che sia Sì No no La Parmina Togliatti è quella di Acente Però la via proprio dove C'è il divieto di transito Alle autovetture Da mezz'ora dopo il tramonto A mezz'ora prima dell'alba Praticamente lì Se uno va alle 3 di notte È come se fosse a via Le marcoli alle 5 del pomeriggio La stessa identica cosa In questo Diciamo territorio Diciamo A limitata Transito limitato Praticamente C'era addirittura Un rivenditore Di bibite e panini Praticamente Autorizzato Con un permesso Che è solo pubblico Ho capito E questa è una cosa Che secondo me A parte il controllo Che dovrebbe essere Sul territorio A parte le forze dell'ordine A parte i vigili urbani E questo L'orevole Tozzi Era insomma limitata La cosa che però Mi sorpresa all'epoca Che sia da parte L'orevole Caradonna Che dalla presente Tozzi Appunto C'era mancanza Di informazione Nei confronti Di questo fenomeno Poi successivamente A questo intervento Nostro Diciamo Informativo Mediatico Ci fu Come dire Furono messi Dei cordoli Per delimitare Almeno le aree Le aree di parcheggio Però le macchine Le automobili Passavano lo stesso Sulla strada E poi Per un periodo Insomma la cosa È stata un po' Arginata in questo modo Ultimamente Invece Ho mandato I collaboratori Insomma Sul posto Che per controllare E hanno verificato Che effettivamente Nuovamente C'è nuovamente Ci sono addirittura Due Che due Diciamo Furgoni ambulanti Che appunto Vendono Bibite e panini E naturalmente Se non ci Non ci fosse Stata Adesso mi sembra Che l'onorevole Tozzi Non sia più presente Del settore